Quest'estate fai in modo che il sole abbia qualcosa da rovinare e che non siano i tuoi capelli o i capelli della tua cliente. E questo perché capita molto spesso che i capelli, diciamo i propri capelli o i capelli delle clienti, si vanno a trattare alla fine del periodo estivo. Un po' come, lasciami l'esempio, un po' come se hai una bellissima casetta di legno e invece di trattare, diciamo, e proteggere il legno prima che arrivi il sole, diciamo il periodo molto caldo, lo tratti alla fine estate. Quindi facendo così cosa succede? Che tutta l'estate, tutto il sole cuocente, caldo, va a rovinare il legno e alla fine dell'estate tu vai a trattare, a dare un trattamento di protezione appunto alla casettina di legno ovviamente su un legno rovinato, quindi andrai a trattare un legno rovinato dal sole. Diversamente invece, se alla tua casetta di legno la tratti prima che arrivi il sole, sicuramente il sole se la prenderà con il trattamento cioè prima di arrivare al legno tenderà a rovinare il trattamento. E quindi per questo è molto importante anche appunto i capelli, anzi soprattutto i capelli, che iniziamo a entrare in questa logica cioè di trattare i capelli prima che arrivi la stagione calda, prima che arrivi il sole o il sole cuocente prima di andare in spiaggia, prima di andare al mare, quindi di fare i trattamenti prima dell'estate, ok? E proprio per questo c'è proprio una chicca, una chicca veramente efficace, semplice, economica che voglio farti vedere, con veramente con molta semplicità, per i tuoi capelli o per i capelli della tua cliente. E questo te lo farò vedere nel prossimo video. Ciao!